Dietro ai grandi successi dell'atletica italiana non c'è soltanto un lavoro di preparazione e di valorizzazione dei talenti, ma anche l'impegno di personaggi che spesso lavorano nell'ombra e che però sono oggetto dei ringraziamenti e ovviamente anche delle attenzioni di chi riesce a marciare. E questo verbo non è usato a caso perché l'ospite dell'intervista di Salerno Sport 24 che arricchisce la nostra serie di colloqui in video è il fisioterapista dei due campioni olympici in carica della 20 km, Antonella Palmisano e Massimo Staro. Ha origini salernitane ed è un motivo in più per salutare Cristian Bruno che abbiamo il piacere di avere con noi. Buongiorno Cristian. Buongiorno, buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Io sono Carmine Marino e iniziamo questo colloquio ragionando innanzitutto sulla stretta attualità. Il gruppo della Marcia Azzurra dopo lo splendido europeo in cui non solo c'è stata la doppietta Palmisano oltrapletti ma è arrivata anche la medaglia importantissima di Francesco Fortunato nella 20 km, ha compiuto un lungo lavoro di preparazione a Roccaraso in altura prima di raggiungere Parigi. Quali sono le tue sensazioni? Sì, allora, come hai ben detto tu, sei informatissimo, siamo stati a Roccaraso un mese di lavoro intenso per i ragazzi che si sono preparati lì e un mese di lavoro anche un po' per noi che siamo intorno a loro. I paduni, il paduni è andato bene, è andato molto bene, diciamo viaggiano su due forme diverse perché Antonella a Pazzano dopo il successo europeo è andata in claudura a Roccaraso, ha lavorato bene e insomma la forma era già crescente. Massimo non è dove voleva essere che comunque con l'infortunio che c'è stato ad Antalya in Coppa del Mondo e la frattura del quinto metadarsico qualcosina ha perso, ha fatto un lavoro incredibile nei posti infortunio per poter poi essere Roccaraso e lavorare, ha lavorato bene, ha lavorato tanto, direi che insomma il bilancio è postico dell'avvicinamento a Parigi. Che cosa ti lega alla provincia di Salerno e poi la vera ragione oltre ovviamente a questa ricognizione sullo stato di salute degli atleti azzurri per il motivo per cui oggi sei il nostro ospito? Sì, allora innanzitutto mi legano le origini, mia mamma e mio papà sono di Salerno, sono del Cilento, e poi ancora di più a legare e a mantenermi legato al territorio di origine sono anche i miei suoceri perché poi qui dove abito ad Ostia ho conosciuto la mia compagna attuale e i miei suoceri sono di dietro sul mare, quindi diciamo che in qualche modo ho unito la montagna, la collina del Cilento al mare, e quindi questo sicuramente mi lega, mi lega tantissimo la mia fede calcistica che è per la Salernitana e quindi ho avuto il piacere in questi ultimi due anni dopo tantissimi anni perché noi andiamo a Roccaraso per provare gli eventi estivi ma da circa dal 2009-2010 e negli ultimi due anni la Salernitana ha fatto il raduno a Rivisontoli che è attaccatissima a Roccaraso e quindi io molto piacevole, nei tagli di tempo andavo a vedere gli allenamenti della squadra insomma, oltre al fatto di essere stato iscritto a un club qui di Roma della Salernitana, quindi sono tifoso tifoso e in più mi legano anche le tradizioni, anche quelle culinari, proprio ieri mi è arrivato da giù un pacco di roba con biscotti con i pepe roviuschi e così via, quindi sono comunque sempre legato alla terra di origine in qualche modo. Cristian, come ti sei avvicinato all'Atletica e quando hai iniziato a collaborare con il gruppo della Marciazucra? Allora, io mi sono avvicinato all'Atletica da piccolo perché abitando ad Ostia, Ostia è la sede delle Fiamme Gialle, uno dei gruppi sportivi d'Atletica più importanti e quindi io ho fatto parte delle Fiamme Gialle Gialle, del settore giovanile e facevo marcia. Poi essendo abbastanza scarso, insomma, mi sono accorto in tempo che forse l'avrei dovuto prendere un'altra strada, quindi sono uscito dalla porta e rientrato dalla finestra, diciamo così, ed è bello perché poi alcuni di quelli che erano i miei compagni d'Atletica giovanile, alcuni hanno poi fatto l'attività professionistica e quindi ci siamo rincontrati in altre vesti. E io poi, ecco, proprio perché l'Atletica è un po' il mio mondo, è sempre stato il mio mondo, è facilitato anche dalla presenza d'oste, delle Fiamme Gialle, appena ho iniziato a lavorare, a lavorarmi, a lavorare nel mio studio, ho avuto la possibilità di cominciare a collaborare con qualche atleta. E così, mano a mano collaborando, poi alcuni atleti di quelli che eseguivo sono diventati atleti sempre un po' più bravi, sempre un po' più importanti e questo ha fatto sì che io potessi in qualche modo affacciarmi anche all'ambito federale, alla federazione nazionale, dove ho iniziato, facendo un po' tutta la caretta, ho iniziato con le nazionali junior, all'ieri, quindi proprio i piccolini, facendo dei raduni inizialmente, e poi piano la mia attività e il mio impegno è cresciuto di pari passo alla crescita degli atleti che tuttora seguo. E a proposito di questo, fisioterapista e osteopata, poi nello specifico, è soltanto un professionista che lavora in maniera formale con gli atleti, oppure può essere considerato anche un confidente, visto anche il rapporto strettissimo con Faglisano e anche con Stano. Assolutamente, assolutamente. È considerato un confidente, ovviamente non con tutti gli atleti si stava nello stesso rapporto, questo bisogna dirlo. Ci sono atleti con i quali si entra un po' più in confidenza, altri con cui si è amici, si è confidenti, ma cresce un po' più di distacco. Questo dipende un po' anche dai caratteri che hanno gli atleti e questo va rispettato. L'importante è dare il massimo per quello che siamo chiamati a fare per il lavoro. Però assolutamente il lettino del fisioterapista è un momento anche un po' di, diciamo così, decompressione, no? Non solo fisica. E per quanto tu sia, diciamo, di supporto e non legato strettamente alla preparazione sul piano tecnico dei tuoi atleti, seguirai con grandissima attenzione, non so se anche di persona a Parigi, le gare della 20 chilometri e anche l'inedita staffetta che debutta a Parigi 2.24. seccamente un pronostico sul contingente azzurro che dovrà difendere due dei cinque ovi vinti nella magica Olimpiade di Tocchio. Allora, sì, sarò a Parigi, sono in partenza il 29 e questa sarà la mia terza Olimpiade. Io penso che anche alla luce dei bellissimi risultati che ci sono stati agli Europei di Roma, quindi come movimento, io sono in nazionale dal 2009-2010 circa e non ricordo una nazionale così forte, così forte con una base così ampia, compatta, livellata verso l'alto. Quindi io penso che come numero di medaglie potremmo anche fare meglio rispetto a Tocchio, come numero. Io mi auguro, ti immagino e spero da tifoso e da appassionato di atletica di vedere tante maglie azzurre, soprattutto in finale. Approfitto di questi ultimi secondi dell'intervista, visto che mi hai fornito un assist in precedenza, per chiederti le tue impressioni sulla salernitana che verrà, che dovrà affrontare una difficile ricostruzione dopo la disastrosa stagione dello scorso anno. Da tifoso come vivi questa incertezza legata a questa probabile transizione tra il vecchio gruppo che verrà quasi certamente smantellato nonostante stia affrontando il ritino e la squadra, quindi la direttore sportiva Petracchi e l'amministratore delegato Milan dovranno costruire per il prossimo campionato di Serie. Allora, io innanzitutto da tifoso sono tantissimo dispiaciuto per come sia andata l'anno scorso, nel senso che avete procedere, si può, ma avete procedere così, no. Una squadra che avete procedere da là e sentire che l'intenzione, almeno societaria, non è quella di provare subito a ritornare in A, non mi piace, non è una mentalità vincente. I giocatori per adesso vedo che stiamo puntando a prendere un qualcosina di buono dalle serie inferiori, quindi mi aspetto che arrivi qualcosa di importante o i cosiddetti giocatori di categoria. Io ringrazio di cuore Cristian Bruno. Grazie, grazie a te, grazie per l'invito e seguite i nostri atleti quest'estate, tra poco, tifateli e porto a Salernità. E ci sta tutto. Io invece ringrazio, oltre che Cristian Bruno, naturalmente, i nostri lettori e spettatori del canale YouTube, invitandoli a seguire ovviamente Salerno Sport24 anche durante il periodo olimpico. Per intanto vi diamo appuntamento ad una prossima videointervista e un saluto da Carmine Marino. Alla prossima. Grazie, grazie.